Una grande tempesta che lascia scoperte le sicurezze con cui abbiamo costruito le nostre agende, i progetti, le nostre abitudini e priorità. Un trauma che si può sconfiggere soltanto insieme. Le campane a lutto hanno suonato all'unisono ieri sera per dare il via all'evento organizzato alla Rocca Malatestiana, il ricordo delle vittime del Covid-19. La memoria grata per riaccendere la speranza è il titolo dell'iniziativa organizzata dal Comune e dalla diocesi di Fano, Fossombrone e Caglipergola per non dimenticare e proseguire insieme nella battaglia contro questo nemico invisibile. Musica, poesie e testimonianze si sono alternate di fronte a una platea di 400 persone e migliaia di telespettatori che hanno seguito l'evento in diretta sul canale 17 di Fano TV. Toccante è stata la lettera che Alice ha scritto per il nonno. Aldo, così come tanti anziani, è stato portato via dal coronavirus senza la vicinanza e l'affetto dei propri cari, senza una carezza, senza un abbraccio delle persone amate. E spero che il calore delle nostre mani, le stesse che non hai potuto stringere quando ne hai avuto bisogno, possa ora raggiungerti in qualche modo. Grazie. Non solo l'attimo, ma anche gioia per chi invece ce l'ha fatta. Come Giuliano Talamelli, salito sul palco per raccontare la sua storia, le difficoltà, la perdita di 20 kg in 16 giorni, la paura di morire e poi la sicurezza di aver sconfitto il coronavirus. Mi sono trovato a dire non ce la faccio ed ero convinto di non farcela, soprattutto anche morire senza andare in chiesa, per me era proprio una, era quella la peggior morte che si poteva immaginare. E sei qua questa sera? E sono qua questa sera. A nome di tutti i pazienti guariti gli facciamo un grande applauso. Emozionata anche la direttrice di Marche Nord, Maria Capalbo, che ha ricordato il ricovero del radiologo Carlo Amodio, deceduto nel mese di aprile. Prima di chiudere gli occhi, il dottore aveva lasciato alle infermiere un messaggio per sua moglie. Era lucido, fa, io so che non rivedrò più niente e nessuno, però per favore, voi siete le persone che potete fare, potete trasmettere quello che sento. Dite a Donatella che l'ho tanto amata e l'ho tanto voluto bene. Capalbo ha ripercorso anche la vicenda di Giannina, la prima paziente ricoverata, e poi quella di Severino, pilota di 50 anni, con i polmoni distrutti dal virus. Il team ha provato tutti i protocolli terapeutici e i farmaci sperimentali. Marche Nord aveva scommesso su Severino, ha dichiarato Capalbo, e alla fine siamo riusciti a salvargli la vita. Soprattutto un grazie a tutti i professionisti di Marche Nord, perché veramente era un qualcosa di sconosciuto e subdolo. Però l'abbiamo affrontato con ansia sicuramente, ma con la rabbia, con la tenacia, con la tenacia di combatterlo. Questo è il messaggio di speranza. La fiducia di rialzarci e di andare avanti, e di andare, guardare avanti, guardare avanti tenendoci per mano come gruppo, perché veramente da soli non si va da nessuna parte. Insieme alla direttrice era presente il dottor Frausini. Abbiamo avuto paura, ma anche tanta audacia, ha ammesso il direttore di medicina interna. Il nostro impegno è stato enorme, così come la frustrazione per aver perso tanti pazienti, ma abbiamo trovato la forza necessaria anche grazie alla comunità, che si è stretta a noi con messaggi, manifesti e donazioni. Ci siamo trovati all'improvviso di fronte a una cosa più grande di noi, qualcosa che non conosceva nessuno, ma vi assicuro che non conoscevano neanche quei personaggi che andavano poi in televisione tutte le sere a sentenziare cose che nessuno poteva sapere. In tutti quelli che riuscivano a interagire con noi, una parola, una carezza, una voce di speranza, gliel'abbiamo sempre data e magari anche un sorriso mascherato dalle nostre protezioni. Alla serata, presentata da Davide Cecchini, hanno partecipato diverse autorità, civili, militari e religiose, tra queste il prefetto Vittorio Lapolla, quattro parlamentari, i rappresentanti di provincia e regione, i sindaci del territorio e poi la Croce Rossa, la protezione civile e la Caritas. Significative le parole del primo cittadino Massimo Seri. Fare memoria significa ricordare i nostri morti, significa assumere consapevolezza di quel che è accaduto, significa riflettere su ciò che non ha funzionato, sulle carenze di sistema, sugli errori da evitare di ripetere, significa allo stesso tempo rammentare il valore di quanto di positivo si è manifestato. Perché solo insieme, senza distinzione, tutti possiamo contribuire allo sviluppo illuminato della società. Il Covid, ha detto invece il Vescovo Armando Trasarti, ha costretto gli italiani a guardare in faccia una morte dura, vissuta in solitudine, senza il conforto reciproco degli affetti e senza alcun accompagnamento religioso. Il tema della malattia, della vita e della morte tocca e ridefinisce ogni cosa. I preti e non solo loro, ha aggiunto sua eccellenza, non sono stati con le mani in mano, sono rimasti sul campo e hanno fatto l'impossibile. È stata la loro presenza a parlare e a consolare e lo è tuttora. Confesso che in questi giorni mi visita in continuazione quella parola del libro del Siracide in cui si dice, soccorri tuo padre nella vecchiaia e anche se perdi il senno, non disprezzarlo. Viste le tante vittime del Covid, il Vescovo poi ha voluto sottolineare l'importanza del sistema sanitario e delle strutture presenti nel territorio, entroterra compreso. Si toccano con mano i costi di quella eccellenza del sistema sanitario che in nome, a mio avviso a volte, di una scriteriata applicazione del contenimento economico, ha sgretolato e distrutto il campo della cura diffusa nel territorio e della prevenzione medica di base. Questa delusione, quanta delusione, quanta solitudine, quanta amarezza. Questo è il momento dell'azione, della mobilitazione soccorritrice, di una benedetta competenza scientifica. E' il momento della cura reciproca estesa in ogni fibra del nostro corpo comunitario, dell'iniziativa politica chiamata a decidere guardando oltre il polverone. Ma, credetemi, lo dico con tremore, verrà anche il tempo in cui serviranno anche le parole. Quelle che danno ossigeno alla fiamma del coraggio e alla luce del senso, ne avremo bisogno tutti. Forse ci vorranno ancora tante lacrime per trovare parole giuste per un tempo adatto e per persone concrete. Oltre a quelli della Chiesa Cattolica erano presenti rappresentanti della Chiesa Ortodossa, Evangelica e delle religioni ebraica, islamica e buddista. Questa rocca non durerà in eterno. Invece io stasera vorrei parlare di una rocca forte che ci sarà per sempre, per ognuno di noi, il nostro Signore. Al termine della cerimonia, allietata dal fano gospel choir e da un quartetto dell'orchestra sinfonica Rossini, è stato completato il bercere, la fiamma e la luce delle candele accese in memoria delle vittime del Covid e simbolo di speranza. Grazie a tutti.